ok stavolta faremo un po di missioni secondarie perché ho visto che devo sbloccare per forza il lanciarazzi abbiamo bisogno di molte più persone anche molto qualificate sto andando troppo veloce nella storia quindi devo iniziare a prendere un po di persone c'è l'estopera troppo lentamente no 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 e solo i corpi sono lasciati dietro. I soviets hanno già perduto un numero di uffici. Uda, guarda il passo di guardare. Bene, bene. Chissà dove è quiete. Allora continuiamo in seconda, vediamo. Bene, io intanto ho scelto questa perché non è semplicemente la più vicina, però... Ah, poi dovevo andare anche al numero di uffici, adesso... Intanto già andare qui sarà una bella... Porca vacca, ma non dirmi che c'è la montagna. No. Allora, andiamo qua. Dio Dio. Eeeh, ci vediamo là? Beh, dai. Visto che dobbiamo prendere più persone possibile. Qualcuno di decente c'è qua. Eh, anche le abilità da quel che ho capito c'è, però... Qualcuno di questo? Tutte Dio, ma porca vacca, ho una B a me, no? Ah... Che... 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 Piia tutto, piia tutto! Grazie. mi siete trasportato davanti is coming to a matto individera tutti No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. coni è meglio eliminarli almeno teniamoci la livello c se non proprio non possiamo trovare un livello b non è anche abbastanza buono sai che sono quelli che ci sono gli autisti del camion questi due sped it out look Non c'è nessuno. Parca troia Vediamo se era vero Eh, una B Però non volevo usarla Andiamoci Madonna, qui non arriverò mai alla fine Anche se alla fine è tutto per Prendere più persone Quella lì fa veramente Prendere più persone possibili Oh, quello se che mi piace Vorrei non poter Non dover utilizzare il silenziatore E invece sono un coglione Non dover utilizzare il silenziatore E' l'ostia Se mi scopre muore Anche il fiorì Anche il fiorì Ok, ho dovuto richiedere un mezzo di rifornimento, ma al fine mi sono ripreso la pistola iniziale, forse potevo prendermi direttamente un silenziatore, ma vabbè. Sì, è una merda. Cosa che dovevamo fare qua? Vediamo. Mi sono funzionati. Qui. No, qua l'ho già fatto, bello. Un prigioniero. Ma tu da dove cazzo arrivi? Da cagare queste due. Oh, però. Dovevo chiedere anche a Kuton come ricordamento. Kuton. Sarebbe molto utile trovare qualcuno da interrogare. Dove serve a merda? Guarda com'è va il mirino. Che scrivi? Mi vale un mirino anche. Vediamo se qui all'esterno c'è qualcuno. Tanto la merdaccia sta arrivando da noi. Ma saremo pronti ad accoglierlo. Forse lo possiamo interrogare, forse è meglio. Ciao. Ok, grazie. Ops. Scusa, ho pochi foto. Eccolo là. Niente, ti lasciamo qui. Io non c'è niente. Oh, straga, che vista che c'hai. Tu mi hai visto? No. Non so perché il rallentatore è andato più... Più lungo, ma vabbè. Ci ho mangiato uno buono comunque, vabbè. Non sarà facile entrare lì, adesso. Dai, bravo, vieni qua. Se almeno tolgo quelli sotto... Sarà più facile. Sarà più facile. Non è che torna nella sua posizione. No, va a casa. Dai, dimmi qualcos'altro. Progetti, perfetto. Tu mi hai nessuno. Ti attackerai! Sì, sì. non so che entrare dalla porta principale non è una cosa migliore però ma che cazzo? e non mi vedresti? ci sono due che coprono l'entrata dove c'è il prigioniero ah che senso cos'era quella? forse erano le luci che si rinfransevano che hai scelto? non sono in senso cos'era, non lo fate non sono in senso, non lo fate Ho visto un pallone Troppo divertente Certo hanno una vista Che se non glielo metti davanti agli occhi Non lo vedono Però Almeno lo vedono Ricarica Veloce Porca Ah ma non mi ha visto E se potessi prenderti No Questa puttana no no Non mi interessa Molto adagio Porca troia Dai muovi qui Porca Chi Chi mi ha visto Aspettare un attimo Perché qua C'è qualcuno Sapevo Ma però Sembra un grande spionaggio C'è una bella No La tempesta di sabbia Non adesso Ah ma lui è 100% Sembra Infatti lui mi da un 40% Da sto punto Approfizierei di questa Che cosa sta per pigliare tutti Giamanti Vediamo pigliare più persone per scegliere Dai progetti anche Nascondiglio di diamanti Sai che la tempesta è finita Si Però quello là è la ferro Cosa vedi tu scusa Ah non ho più il Ma questa non è la mia arma Ops Mi sa che ho rubato l'arma a qualcuno Se ho sbagli Vabbè non hanno più niente di interessante Quanto potrà Figliamo più persone possibili Interessanti Andiamo He's coming too Roger that Vai 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 Digliamo tutto qui Progetti Lo stai volendo fare Non posso farci niente Quello mi sa che è l'ultimo rimasto Vediamo Tu coneri Ecco dove era la mia arma Sì grazie Mi sembrava di non averla consumata Tutto Sono due da sopra Primo va bene Secondo è una meta Non ti sei accorto di nulla? Non sei fortunato Sei una merda Ma sei fortunato Ok ora abbiamo Complicemente finito Tutto Io me ne andrò Non sei argue Allora Buono Grazie.